Quarta giornata nel campionato di Serie 2, girone B di calcio a 5 femminile. Il Padova, reduce dal rocambolesco, incredibile pareggio per 7 a 7 in casa della Noalese, torna tra le Muramiche dove ospita lo Jasnagora con l'obiettivo di continuare la marcia di avvicinamento alle zone alte della classifica. Però proprio come è successo, sette giorni prima sono le avversarie a partire forte e portarsi in vantaggio dopo poco più di sette minuti con questo gol di Guaime e all'ottavo minuto e 33 secondi arriva anche il raddoppio dello Jasnagora con Orju che sottomisura, batte il portiere e trova il 2 a 1. Il Padova è chiamato a reagire, lo fa meno di 20 secondi dopo aver subito il gol con questa rete di Pezzolla che quindi accorcia le distanze. Arriviamo quindi all'undicesimo minuto e 7 secondi, c'è questa buona azione biancoscudata, biancoscudata che giocano ancora in maglia blu, l'imbucata per la capitana Pinto che si gira in un fazzoletto e riesce a battere il portiere per il pareggio. Molto bella la sua girata sull'uscita del portiere, Padova che pareggia e prima dell'intervallo al diciassettesimo minuto trova anche il raddoppio, ancora una bella azione palla a terra. Il primo tiro finisce sul palo e poi è Gesiot a segnare da due passi a porta sguarnita e a consegnare così il Padova il vantaggio per 3 a 2 alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Padova controlla nei primi dieci minuti e poi va ad affondare nella seconda parte di gara c'è il 4 a 1 segnato da questo gol bellissimo di Fernandez, un grandissimo destro da fuori dell'area di rigore che bacia il palo e poi si insacca in rete, è fatta per le biancoscudate che nel finale si divertono e al quindicesimo minuto riescono a rubare un altro pallone nella propria metà campo, qua anche Fortunata Pinto a dribblare il portiere ad avalersi di un rimpallo e a segnare il gol del 5 a 1. Padova che quindi conquista la sua seconda vittoria in campionato anche se non è finita qui perché proprio a tre secondi prima del fischio della sirena arriva il gol del 5 a 2, è un autogol quello dello Jasnagora visto che l'ultimo tocco è di Pinto ma poco importa perché finisce 5 a 2 per il Padova che sale quindi a quota 7 punti in classifica, si porta a ridosso della zona playoff e così può esultare con una grande corsa liberatoria davanti al proprio pubblico.